Perché sono importanti il pollice opponibile e la posizione eretta per l'evoluzione dell'uomo? Il pollice opponibile si chiama così perché il pollice rispetto alle altre dite della mano è una delle dita più importanti perché ha permesso all'uomo di afferrare gli oggetti. Grazie al pollice opponibile la mano dell'uomo svolge perfettamente la sua funzione, afferra oggetti, modifica plasma oggetti, modifica l'ambiente dell'uomo. Attraverso la posizione eretta L'uomo riesce a liberare le mani con le sue danni, riesce a fare tantissime cose. Opere d'arte, ponti, grattacieli, città, opere letterarie. Sono tantissime le opere che riesce a realizzare con le mani l'essere umano. Queste, il pollice opponibile e la posizione eretta sono due elementi importanti nel processo evolutivo dell'uomo. Ciao, al prossimo video.